Senatore per tre legislature con la democrazia cristiana, sindaco di Oliveto Citra dal 1945 al 1946, Vincenzo Indelli, scomparso nel febbraio del 2000, ha rappresentato un punto di riferimento per la zona del Sele dell'intera provincia di Salerno, sia con i suoi scritti che con l'impegno profuso per il territorio. Un'attività che ora sarà valorizzata da un centro studi a lui dedicato, presentato contestualmente ad un convegno in programma giovedì 22 giugno alle 16.30 al Grand Hotel Salerno. Sul meridionalismo del senatore Vincenzo Indelli, modello di azione politica, democrazia e sviluppo, al quale prenderanno parte diversi protagonisti di quel momento politico, da Michele Pinto a Giuseppe Gargani, da Carmelo Conte a Ciriaco De Mita. L'intento è quello di avviare con il centro studi una serie di approfondimenti storici ed economici sulle dinamiche dello sviluppo locale del comprensorio del Sele, oltre che valorizzare l'opera di Indelli, che diede vita nel 1953 al consorzio Acquedotti Alto Sele, a quello della Valla del Sele, Calore Montestella, impegnandosi per la difesa del grande fiume. Tutto questo senza dimenticare quanto fatto in quegli anni con la Cassa per il Mezzogiorno nella zona. Il rapporto con la Cassa per il Mezzogiorno, ma soprattutto essendo un rapporto di anticipazione dell'utilizzo dei fondi comunitari, per cui questo valore enorme non potrà essere disperso. Questo è un inizio di una rivalorizzazione non soltanto di un personaggio, ma di tutto un periodo politico che oggi purtroppo non c'è più. E tra l'altro le questioni irrisolte che furono di Giustino Fortunato, che furono anche, lo dico, di Giorgio Lapira, di Luigi Sturso, di altri grandi meridionalisti, purtroppo sono rimasti irrisolti. Molto interessante, ieri parlavo con De Mita, capire che cosa diranno questi politici che non si vedono da anni. Grazie a tutti.